All'uomo indiesi non piace affittare casa, insomma questo diventa anche un po' un problema per chi le case le ha, è un problema anche di natura sociale, adesso forse con i patti territoriali forse qualche soluzione si comincia a intravedere, Assessore. Sì, questo è l'intendimento proprio che ci siamo dati insieme ai sindacati degli inquilini e dei piccoli proprietari con il rinnovo dei patti territoriali. A domenica effettivamente ci sono più di 2.500 immobili che non sono stabilmente occupati, una percentuale che è circa del 27%, addirittura superiore a quella della media nazionale. Diciamo che l'utilizzo degli appartamenti come seconde case, come case vacanze, penalizza sicuramente la possibilità di mettere a disposizione le locazioni per il cittadino che qua vuole vivere tutto l'anno. C'è un problema economico però tutto questo è anche un problema sociale perché Omegna ha diminuito nel tempo, negli anni, il numero dell'abitante mentre invece la possibilità di dare in locazione delle abitazioni a prezzi ovviamente anche, diciamo, calmierati se vogliamo usare questo termine, potrebbe apportare benefici a tutta la comunità, sindaco. Sì, è chiaro che gli appartamenti vuoti sono un grosso problema, sono un problema sia per chi cerca casa ma sia anche per il tessuto economico generale della città. Quindi io invito veramente i proprietari degli immobili ad andare ad analizzare bene la condizione economica di questi patti territoriali. Qual è il vantaggio per i proprietari di casa con questi contratti territoriali? I vantaggi per i proprietari di casa sono numerosi. Prima di tutto la durata inferiore possibile per i contratti canoni concordato che parte dalla durata di 3 più 2 rispetto a quella classica del 4 più 4 della locazione a canone libero, l'agevolazione fiscale locale attualmente del 25% sul Limo. Per il comune di Omegna è stata prevista per l'annualità successiva una ulteriore riduzione in materia di aliquote. E per gli inquilini invece quali sono i vantaggi? Le intese raggiunte sicuramente hanno portato a un vantaggio notevole soprattutto su quello che noi definiamo canone calmierato nel senso che l'inquilino avrà la possibilità di avere sia della durata che del canone concordato in base a dei parametri un costo di canone piuttosto calmierato. Grazie.